Buongiorno e benvenuti nel mio canale il mondo dell'uncinetto oggi vi spiego come realizzare questo carissimo cesto è veramente molto facile da realizzare e molto semplice infatti ciò che lo abbellisce è proprio questo bel fiocco centrale allora lo potete utilizzare in veramente tante occasioni per mettere le asciugamani e posizionarlo in bagno oppure per mettere dentro creme, trucchi magari posizionarlo in camera da letto oppure come nel mio caso potete inserire al suo interno vari oggetti per neonati e renderlo un perfetto regalo nascita adesso vi lascio la spiegazione e mi raccomando se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi se vi è piaciuto il progetto lasciate un like non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati inoltre potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione grazie mille ecco l'occorrente per il progetto di oggi una rocca da 500 grammi di cordino è un classico cordino che si trova in commercio un uncinetto numero 4 vi consiglio sempre di provare se va bene per la vostra mano un marca punto un nastro di raso da 1 cm un fiocco sempre di raso trovate già la spiegazione sul mio canale vi lascio il link in descrizione un accendino un metro da sarta prendo il cordino prendo l'accendino e vado a bruciare questa parte iniziale in modo tale da bloccare bene il filo e non farlo scucire una volta effettuato questo passaggio posso iniziare la lavorazione cosa faccio? prendo l'uncinetto e realizzo un cerchio magico una volta realizzata questa X inserisco l'uncinetto in questo modo e blocco il cerchio magico con una catenella adesso spilo il dito tiro un pochino il cerchio e vado a lavorare al suo interno 6 punti bassi quindi un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il giro e vado a lavorare altri 5 punti bassi fino ad ottenere un totale di 6 punti bassi una volta lavorati i 6 punti bassi stringo il cerchio magico il più possibile metto questo filo iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo nel corso della lavorazione e continuando a lavorare a spirale inizio il secondo giro quindi tolgo il marca punto mi raccomando questo filo iniziale in orizzontale per nasconderlo entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso prima di continuare la lavorazione prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro adesso cosa faccio? rientro nello stesso identico punto in cui ho appena lavorato il punto basso e ne lavoro un secondo ecco qui il risultato in questo modo ho lavorato un aumento adesso entro nel punto successivo e lavoro un altro aumento ossia due punti bassi nello stesso identico punto quindi un punto basso rientro nello stesso punto e lavoro il secondo entro nel punto successivo e lavoro un nuovo aumento ossia due punti bassi nello stesso identico punto e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro ossia per ogni punto sottostante lavoro un aumento se ad inizio giro avevo un totale di sei punti bassi al termine di questo giro dovrò avere un totale di 12 punti bassi io adesso vado avanti noi ci ripetiamo quando ho terminato il giro così vi faccio vedere come continuare la lavorazione come potete vedere ho terminato questo giro di aumenti e qui ho un totale di 12 punti bassi adesso tolgo il marca punto e inizio un nuovo giro entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso poi prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi dove inizia il nuovo giro adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso in questo modo ho lavorato un aumento entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un aumento ossia due punti bassi nello stesso punto punto successivo un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro quindi alterno un aumento con un punto basso un aumento e punto basso fino ad arrivare qui noi ci ripetiamo alla fine di questo giro per vedere come terminare mi raccomando ho iniziato con un aumento quindi devo terminare con un punto basso allora ho terminato anche questo giro e come potete vedere qui ho appena lavorato un punto basso allora adesso rispetto al giro precedente devo lavorare due punti bassi ed un aumento ma per far venire un cerchio perfetto cosa devo fare devo dividere due punti a metà e lavorare l'aumento proprio tra questi due punti quindi cosa faccio tolgo il marcapunto entro qui dove avevo il marcapunto e lavoro un punto basso poi prendo il marcapunto e segno questo punto adesso nel punto successivo non vado a lavorare il secondo punto basso ma vado a lavorare l'aumento come vi dicevo prima quindi l'aumento va lavorato a metà dei due punti quindi primo punto basso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso in questo modo è come se avessi lavorato la sequenza due punti bassi e un aumento soltanto che lavorando in questo modo sia con l'aumento al centro dai due punti mi verrà alla fine un cerchio perfetto quindi adesso vi faccio vedere come continuare e poi dopo capirete ancora meglio come funziona quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo lavoro un aumento ossia due punti bassi nello stesso punto punto successivo lavoro un punto basso e poi semplicemente ricomincio la sequenza quindi io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto del giro e noi ci rivediamo quando ho terminato il tutto mi raccomando la sequenza da ripetere è sempre questa un punto basso un aumento un punto basso ed ecco qui il risultato allora io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui mi raccomando la sequenza da ripetere è sempre la stessa un punto basso un aumento un punto basso e ricomincio un punto basso un aumento un punto basso noi ci rivediamo qui ora come potete vedere ho terminato questo giro ed ho continuato proprio come vi ho detto alternando la sequenza un punto basso un aumento e un punto basso ed ho proprio terminato con un punto basso adesso inizio un nuovo giro e cosa faccio vado a lavorare semplicemente come di norma dovrei lavorare quindi inizio con un aumento e poi lavoro tre punti bassi quindi tolgo il marca punto entro qui dove ho il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso in questo modo ho lavorato un aumento poi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo e lavoro un secondo punto basso punto successivo e lavoro un terzo punto basso quindi come potete vedere a differenza di prima non ho lavorato l'aumento a metà tra i vari punti in quanto avendo un numero dispari avrei avuto difficoltà a dividerli quindi quando devo lavorare una sequenza con un numero di punti dispari questo sarà sempre il modo in cui lavorare quindi inizio con l'aumento e continuo con i punti da lavorare e poi quando ho il numero pari ripeto lo stesso procedimento di prima comunque adesso vi faccio vedere come continuare questo giro e poi vi spiego ancora meglio quindi punto successivo lavoro un aumento punto successivo un punto basso punto successivo un secondo punto basso punto successivo un terzo punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro alternando questa sequenza un aumento tre punti bassi un aumento tre punti bassi un aumento tre punti bassi noi ci rivediamo qui per vedere come continuare il giro mi raccomando ho iniziato con un aumento quindi devo terminare con tre punti bassi altrimenti c'è qualcosa di sbagliato allora come potete vedere ho appena terminato di lavorare questo giro di aumento e tre punti bassi aumento e tre punti bassi e questo è il risultato adesso vado a lavorare un nuovo giro e come vi ho già anticipato andrò a lavorare un giro con un numero di punti bassi pari in questo caso quattro quindi non inizierò come ho fatto prima con l'aumento ma inizierò con i punti bassi e quindi cosa devo fare prendo i quattro punti bassi li divido per due per ottenere la metà in questo caso due e quindi cosa faccio andrò a lavorare due punti bassi aumento e due punti bassi e poi ricomincio la sequenza due punti bassi aumento e due punti bassi e questo è il procedimento che poi dovrò ripetere per tutti gli altri giri comunque adesso vi faccio vedere cosa fare quindi tolgo un marca punto e lavoro un punto basso poi prendo un marca punto e segno questo punto entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso adesso come vi ho detto vado a lavorare un aumento proprio al centro dei quattro punti da lavorare una volta lavorato l'aumento entro nel punto successivo e lavoro un punto basso entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso in questo modo è come se avessi lavorato la sequenza quattro punti bassi e un aumento soltanto che lavorando l'aumento al centro otterrò un cerchio perfetto e adesso semplicemente ricomincio la sequenza quindi un punto basso punto successivo lavoro un secondo punto basso punto successivo lavoro un aumento ossia due punti bassi nello stesso punto punto successivo un punto basso punto successivo un secondo punto basso e anche questa sequenza è terminata e questo è il risultato e adesso ricomincio sempre con la stessa sequenza ossia due punti bassi un aumento e due punti bassi e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro fino ad arrivare alla fine qui mi raccomando la sequenza è due punti bassi aumento due punti bassi come potete vedere ho terminato anche questo giro di due punti bassi aumento e due punti bassi e questo è il risultato ho appena lavorato due punti bassi adesso inizio un nuovo giro in questo giro andrò a lavorare un punto basso in più rispetto a prima quindi se prima ho lavorato quattro punti bassi per questo giro andrò a lavorare cinque punti bassi essendo cinque un numero disparo cosa faccio inizio il giro proprio come vi ho detto devo fare per ogni giro disparo quindi inizio con l'aumento e poi lavoro i cinque punti bassi e continuo aumento cinque punti bassi quindi quando devo lavorare il giro di numero disparo è veramente molto semplice il passaggio adesso tolgo il marca punto e lavoro un punto basso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il nuovo giro rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso in questo modo ho lavorato l'aumento adesso semplicemente vado a lavorare cinque punti bassi quindi entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo e lavoro un secondo punto basso punto successivo e lavoro un terzo punto basso e continuo a lavorare punto su punto a punto basso fino ad ottenere un totale di cinque punti bassi quindi come potete vedere per ogni giro lavoro un punto basso in più rispetto a prima allora una volta lavorati i cinque punti bassi ricomincio la sequenza quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento punto successivo vado a lavorare i cinque punti bassi quindi un punto punto successivo secondo punto punto successivo terzo punto punto successivo quarto punto punto successivo quinto punto e semplicemente continuo a ripetere questa sequenza aumento e cinque punti bassi per tutto il resto del giro mi raccomando ho iniziato con un aumento quindi devo terminare il giro con cinque punti bassi noi ci rivediamo qui per vedere come terminare allora come potete vedere ho terminato anche questo giro composto da aumento e cinque punti bassi e questo è il risultato come potete vedere il cerchio è perfetto non ho nessuno spigolo allora adesso inizio a lavorare un nuovo giro come vi ho già detto prima devo lavorare un punto in più rispetto al giro precedente quindi se qui ho lavorato cinque punti bassi nel giro che andrò a lavorare devono essere sei punti bassi quindi ho un numero pari ripeto lo stesso discorso che vi ho già spiegato per i giri di numero pari ossia faccio sei diviso due ottengo tre quindi devo lavorare tre punti bassi un aumento e tre punti bassi quindi tolgo il marca punto e lavoro il primo punto basso poi prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro entro nel punto successivo e lavoro un secondo punto basso punto successivo e lavoro un terzo punto basso sono arrivata a metà dei sei punti quindi entro nel punto successivo e lavoro un aumento una volta lavorato l'aumento lavoro tre punti bassi in modo tale da ottenere i sei punti bassi totali da lavorare per questo giro quindi un punto basso punto successivo secondo punto basso punto successivo terzo punto basso in questo modo ho terminato la sequenza che devo ripetere per tutto il resto del giro quindi adesso ricomincio a lavorare questa stessa sequenza ossia tre punti bassi 3 punti bassi quindi continuo a lavorare così tutto il resto del giro alternando la sequenza tre punti bassi aumento tre punti bassi fino ad arrivare qui adesso sfilo l'uncinetto vi spiego come continuare la lavorazione innanzitutto vi dico quanto misura fino ad ora il mio cerchio sono all'incirca 9 centimetri siccome voglio realizzare un cesto abbastanza grande ho intenzione di arrivare ad una larghezza di circa 24 centimetri quindi continuerò a lavorare il cerchio attornando questi due passaggi fino ad arrivare alla larghezza altamente desiderata poi se lo volete realizzare più grande o più piccolo fermatevi dove preferite quindi mi raccomando adesso ho lavorato un giro di numeri pari quindi ho preso il numero di punti bassi l'ho diviso per due e al centro sono andata a lavorare un aumento quindi in questo caso dovevo lavorare sei punti bassi e cosa ho fatto ho fatto 6 diviso 2 uguale 3 quindi lavoro tre punti bassi in aumento e poi tre punti bassi in modo tale da ottenere sempre la sequenza da me desiderata ma divisa in questo modo poi nel giro successivo lavoro un punto basso in più quindi ho un numero dispari ossia 7 cosa faccio inizio con l'aumento e poi lavoro semplicemente sette punti bassi aumento e sette punti bassi semplicemente continuo a lavorare così aumentando di un punto basso per ogni giro in più che lavoro e facendo questo discorso ossia quando ho il numero pari ripeto il passaggio proprio come vi ho spiegato adesso e quando ho il numero dispari ripeto il passaggio aumento il numero dispari quindi come potete vedere è veramente molto semplice completare la base di questo cesto io adesso vado avanti e noi ci rivediamo quando sono arrivata alla larghezza da me desiderata così poi vi dico con esattezza quanti giri ho lavorato allora come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e alternando una volta il giro di numeri pari e una volta il giro di numeri dispari ho ottenuto questo risultato in totale ho lavorato 21 giri ed ho terminato proprio con un giro di numeri dispari quindi ho iniziato con un aumento e poi ho continuato con il numero di punti bassi da me desiderato sia 19 adesso vi dico con esattezza quanto misura la mia circonferenza ha un diametro di di 24 centimetri ed è proprio la misura da me desiderata adesso cosa faccio vado a lavorare in modo tale da ottenere la parte alta del cesto questo primo giro va lavorato tutto in costa indietro ma adesso vi faccio vedere proprio come lavorarlo quindi tolgo il marca punto entro qui dove ho il marca punto e lavoro un punto bassissimo in questo modo quando inizio il giro in costa indietro non ottengo quello scalino antiestetico che otterrei continuando a lavorare a spirale allora come potete vedere il punto successivo è composto da due asoline una davanti a me e una dietro io vado a lavorare prendendo soltanto l'asolina dietro in questo modo e lavoro un punto basso in costa indietro adesso prendo il marca punto e segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro poi carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e andando sempre a lavorare in costa indietro lavoro un punto alto mi raccomando devo prendere soltanto la costina di dietro adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso sempre in costa indietro quindi mi raccomando questo giro va lavorato tutto in costa indietro adesso carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo e lavoro un punto alto sempre in costa indietro punto successivo lavoro un punto basso in costa indietro punto successivo lavoro un punto alto in costa indietro quindi come potete vedere questo giro è veramente molto semplice in quanto devo lavorare una volta un punto basso in costa indietro una volta un punto alto in costa indietro e semplicemente continuo ad alternare questi due punti per tutto il resto del giro mi raccomando li dovete lavorare tutti in costa indietro quindi adesso ho lavorato un punto basso vado a lavorare un punto alto subito dopo vado a lavorare un punto basso e questo è il risultato ottenuto quindi mi raccomando punto basso punto alto punto basso punto alto per tutto il resto del giro noi ci rivediamo qui quando sono arrivata al penultimo punto così vi faccio vedere come terminare questo giro allora come potete vedere ho continuato a lavorare tutto il resto del giro come vi ho detto alternando una volta un punto basso una volta un punto alto sempre lavorati in costa indietro adesso ho lavorato il penultimo punto che corrisponde ad un punto basso adesso carico il filo sull'uncinetto entro qui nel punto in cui prima ho lavorato il punto bassissimo e sempre lavorando in costa indietro lavoro un punto alto come potete vedere il giro è terminato con un punto alto io ho iniziato con un punto basso quindi ho un disegno perfetto allora adesso cosa faccio inizio il nuovo giro tolgo il marca punto e carico il filo sull'uncinetto entro qui nel punto basso ossia dove avevo messo il marca punto e lavoro un punto alto e mi raccomando questa volta il punto lo prendo intero in quanto non ho più bisogno di lavorare in costa indietro prendo il marca punto e segno questo punto non vi preoccupate se sembra di aver lavorato due punti alti consecutivi in quanto il punto alto precedente fa parte del giro precedente adesso entro nel punto successivo ossia il punto alto sottostante e lavoro un punto basso carico il filo sull'uncinetto entro nel punto successivo che corrisponde ad un punto basso e lavoro un punto alto entro nel punto successivo che corrisponde ad un punto alto e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro ossia dove nel giro precedente ho lavorato un punto basso andrò a lavorare un punto alto proprio come sto facendo mentre dove nel giro precedente ho lavorato un punto alto andrò a lavorare un punto basso quindi lavoro sempre il punto opposto a quello lavorato nel giro precedente e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro poi non vi faccio vedere come continuare in quanto questo punto è veramente molto semplice in quanto una volta terminato questo giro inizio il nuovo giro e cosa faccio? sempre la stessa cosa ossia dove nel giro precedente avevo un punto alto vado a lavorare un punto basso mentre dove avevo un punto basso vado a lavorare un punto alto quindi semplicemente devo sempre lavorare il punto inverso rispetto al giro precedente quindi mi raccomando dove ho lavorato il punto alto andrò a lavorare il punto basso dove ho lavorato il punto basso andrò a lavorare il punto alto e continuo a lavorare così tutto il resto del cesto fino ad arrivare all'altezza da me desiderata nel mio caso arriverò ad un'altezza di circa 9 cm anche 10 quindi noi ci rivediamo quando sono arrivata a questa lunghezza ok come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione del punto e questo è il risultato questo punto veramente molto semplice ma veramente molto carino mi raccomando dove nel giro precedente ho lavorato un punto alto andrò a lavorare un punto basso dove nel giro precedente ho lavorato un punto basso andrò a lavorare un punto alto e così via fino ad arrivare all'altezza desiderata sono arrivata ad un'altezza di all'incirca 9,5 cm e va bene per la misura che voglio realizzare e adesso vi spiego come continuare quindi cosa faccio vado a rifinire questo ultimo giro quindi tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto basso quindi a differenza dei giri precedenti non andrò a lavorare il punto quindi non alternerò un punto basso con un punto alto ma andrò a lavorare semplicemente un giro di punto basso quindi metto un marca punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro e semplicemente entro nel punto successivo e lavoro punto basso punto successivo punto basso punto successivo punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro punto su punto a punto basso io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui per vedere come continuare la lavorazione allora come potete vedere ho terminato il mio giro di punto su punto a punto basso adesso il cesto ha già un aspetto più rifinito e adesso vi spiego come realizzare la parte dove puoi andare a inserire il nastrino quindi tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto bassissimo in questo modo termino il giro e non rimane quel piccolo scalino che di solito si attene con la lavorazione a spirale allora adesso lavoro 3 catenelle poi prendo un marca punto segno la terza catenella queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto adesso lavoro altre 3 catenelle carico il filo sull'uncinetto salto il punto dove ho chiuso il giro e dal punto successivo inizio a contare 1 2 3 punti bassi entro nel quarto e lavoro un punto alto questo è il risultato ottenuto un forellino prima di continuare prendo il nastrino che ho intenzione di mettere e verifico se questa misura va bene per il mio nastrino va bene quindi posso continuare la lavorazione lavoro 3 catenelle carico il filo sull'uncinetto salto il punto dove ho lavorato il punto alto e dal punto successivo conto 1 2 3 punti entro nel quarto punto e lavoro un punto alto poi lavoro 3 catenelle carico il filo sull'uncinetto salto sempre il punto dove ho lavorato il punto alto e dal punto successivo conto 3 punti bassi entro nel quarto punto e lavoro un punto alto quindi come potete vedere creare i forellini per poi passare il nastrino e creare anche un punto di appoggio dove inserire le mani per poter spostare il cesto è veramente molto facile in quanto devo soltanto lavorare tre catenelle saltare tre punti di base lavorare un punto alto io adesso vado avanti con il giro e noi ci rivediamo qui negli ultimi punti per vedere come terminare allora come potete vedere ho lavorato tutto il resto del giro come vi ho spiegato ossia tre catenelle salto tre punti di base nel quarto lavoro un punto alto e questo è il risultato adesso devo lavorare gli ultimi punti e purtroppo rimangono soltanto sei punti da lavorare quindi devo fare una piccola modifica adesso lavoro 3 catenelle carico il filo sull'uncinetto conto uno due tre punti bassi entro nel quarto e lavoro un punto alto adesso a differenza di prima mi sono rimasti solo due punti da lavorare quindi cosa faccio semplicemente lavoro due catenelle tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto sia nella terza catenella mi raccomando non vi sbagliate e chiudo il giro con un punto bassissimo quindi come potete vedere ho fatto una piccola modifica e quest'ultimo buco viene un pochino più piccolo ma non fa niente in quanto poi qui andrò a mettere il fiocco e quindi non si vedrà niente questo è il risultato una volta chiuso il giro adesso tiro bene il tutto in modo tale da sistemare bene la lavorazione e vado avanti con il lavoro quindi cosa faccio entro in questo primo spazio passando sotto le catenelle lavoro un punto basso poi prendo il marca punto segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio giro entro sempre in questo stesso spazio e lavoro un secondo punto basso rientro in questo stesso identico spazio e lavoro un terzo punto basso quindi ho lavorato un punto basso per ogni catenella adesso entro qui dove c'è il punto alto e lavoro un punto basso e questo è il risultato quindi questo giro è veramente molto semplice in quanto dove ho le tre catenelle lavoro tre punti bassi dove ho il punto alto lavoro un punto basso quindi primo punto basso secondo punto basso terzo punto basso mi raccomando passo sempre sotto le tre catenelle poi vi faccio un punto basso e una volta lavorati tre punti bassi entro sul punto alto e lavoro un punto basso ed ecco qui il risultato adesso ho di nuovo uno spazietto quindi passo sotto le 3 catenelle lavoro un punto basso ripasso sotto le 3 catenelle lavoro un secondo punto basso ripasso sotto le 3 catenelle lavoro un terzo punto basso adesso entro sul punto alto e lavoro un punto basso quindi per tutto il resto del giro andrò a lavorare 3 punti bassi sulle 3 catenelle mi raccomando passando sotto ed un punto basso sul punto alto io adesso vado avanti e noi ci rivediamo qui al penultimo buco così vi faccio vedere come terminare il giro allora come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione ho lavorato 3 punti bassi nell'archetto di 3 catenelle ed un punto basso sul punto alto e questo è il risultato adesso devo andare a lavorare l'ultimo anzi il penultimo buco cosa faccio? lavoro sempre 3 punti bassi dove ci sono le 3 catenelle ed un punto basso sul punto alto adesso ho l'ultimo buco che è quello che ho modificato e cosa faccio? a differenza di prima vado a lavorare semplicemente 2 punti bassi e non 3 in quanto ho lavorato solo 2 catenelle adesso ho le 3 catenelle iniziali quindi entro qui nella terza catenella dove prima ho lavorato il punto bassissimo e lavoro un punto basso ok una volta lavorato questo punto basso lavoro altri 3 giri di punto su punto a punto basso quindi cosa faccio? tolgo il marca punto entro qui dove ho il marca punto e lavoro un punto basso poi prendo il marca punto segno questo punto per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto basso punto successivo punto basso punto successivo punto basso semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto del giro punto su punto a punto basso devo sempre avere lo stesso numero di punti che corrisponde al numero di punti iniziale allora io adesso continuo a lavorare così tutto questo giro e nello stesso di antico modo ne lavoro altri due noi ci ripetiamo al termine di questi giri così vi faccio vedere come terminare il cesto allora come potete vedere ho terminato di lavorare i 4 giri di punto su punto a punto basso e questo è il risultato allora adesso vi dico con esattezza quanto è alto il cesto ho un'altezza di circa 13 centimetri e mezzo anche 14 e per l'utilizzo che voglio avere di questo cesto va bene questa misura quindi adesso cosa faccio tolgo il marca punto entro qui dove avevo il marca punto e lavoro un punto bassissimo adesso semplicemente taglio il filo quindi non lavoro alcuna catenella e sfilo l'uncinetto e tiro bene il filo vedete questo è il risultato adesso vado a lavorare una chiusura invisibile con l'ago in modo tale da non far venire alcun difetto quindi prendo una coda lana che è bello grande e non ho difficoltà di inserire il cordino e poi cosa faccio salto il punto successivo al punto dove ho appena lavorato il punto bassissimo quindi vedete questo è il punto dove ho lavorato il punto bassissimo salto il punto dopo entro nel punto dopo ancora qui così lo prendo intero e faccio passare l'ago adesso tiro bene il filo e mantengo più o meno la stessa grandezza di tutte le altre asole dei vari punti una volta tirato bene il filo e lasciata la distanza che mi serve cosa faccio entro nel punto successivo quindi salto sempre il punto che ho saltato prima entro in quello dopo entro al suo interno quindi prendo solo l'asolina esterna in questo modo e prendo anche la corrispondente asolina di sotto così guardate bene il movimento così non vi sbagliate una volta prese queste due asoline faccio passare il filo e lo tiro in modo tale da mantenere sempre la stessa grandezza dell'asola così vedete in questo modo sembra come se ho lavorato un punto ma in realtà ho semplicemente chiuso il filo il giro e è venuto un lavoro ben pulito allora adesso giro il cesto in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me e cosa faccio? vado a creare un piccolo nodino che cerco di spingere il più vicino possibile alla lavorazione in questo modo una volta assicurato il nodino vado a nascondere questo filo attraverso i vari punti bassi lavorati in questo modo ci vuole un pochino di pazienza in quanto il cordino è duro e l'ago fa fatica a passare vedete? sia davanti che dietro non si vede niente viene il lavoro pulito e il cesto è perfetto adesso continuo a nascondere questo filo vedete? e una volta nascosto il filo non mi resta altro da fare che tagliare il filo e bruciare la parte tagliata con l'accendino in modo tale da non far sfilare il cordino adesso con il marca punto mi segno la parte dove ho fatto quella piccola modifica in modo tale da ricordarmi dove devo andare a posizionare il fiocco quindi il cesto è terminato adesso prendo il filo di raso fucsia nel mio caso poi voi lo potete mettere del colore che preferite e lo faccio passare attraverso i vari bucchettini, i forellini quindi taglio l'eventuale parte rovinata con l'accendino vado a bruciare l'inizio in modo tale da non far sfilare il filo e semplicemente faccio passare in questo modo il nastro quindi entro in un foro e esco dal successivo e continuo così per tutto il resto del cesto allora io adesso non vi faccio vedere come passarlo tutto in quanto questo è sempre lo stesso passaggio ed è veramente semplice una volta arrivata qui poi cosa faccio taglio il filo, brucio anche l'altra estremità e poi con l'aiuto di un ago do due puntini o altrimenti con una punta di colla a caldo lo vado ad incollare poi qua sopra andrò a posizionare il fiocco che ho intenzione di rifarlo in quanto questo colore non mi piace come sta infatti penso che lo farò con un nastro più fino e tutto fucsia adesso decido comunque sempre con l'aiuto della colla a caldo oppure dando due punti con l'ago vado a bloccare il fiocco e poi il cesto è definitivamente terminato io adesso lo vado a terminare e poi vi faccio vedere il risultato allora ecco qui il cesto pronto come potete vedere alla fine ho deciso di rifare il fiocco l'ho fatto con un nastro un pochino più sottile e l'ho realizzato tutto in fucsia in quanto quel colore non mi piaceva come stava con il cordino allora come potete vedere il cesto è veramente molto semplice ma veramente molto carino lo trovo anche molto elegante lo potete usare veramente in qualsiasi occasione perché vi basta cambiare i colori e lo potete adattare ad un bagno ad una stanza da letto per una sala da pranzo per un regalo insomma per qualsiasi occasione spero tanto di ricevere qualche foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social di cui vi lascio il link in descrizione spero tanto che la spiegazione sia stata chiara che il progetto vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like se non siete ancora iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto ciao ciao